E' una legge inalienabile. Punto F attraverso Francesca R. 9 luglio 2023 a cura di Vubi e Laura Nova. Michel Bentrovati, se volete domandare potete. Domanda Mi sembra che tu abbia detto che non ti sei mai incarnato. E' possibile che tu non ti sia mai incarnato quando alcuni grandi cerchi dicono invece che la reincarnazione è una legge inalienabile per l'individuo. Michel L'appartenenza alla ruota delle nascite e delle morti appartiene a tutti quegli individui e quelle conoscenze che devono sperimentare il divenire per scoprire ciò che è il loro essere. Alcune parti dell'assoluto, l'assoluto, è la ruota delle nascite e delle morti, è il divenire, è il tutto. E non serve che tutto quello che è l'assoluto partecipi alla ruota delle nascite e delle morti. E' sempre stata detta una verità relativa, perché è vero che tutti voi che siete, tutte le razze che sono incarnate o che si incarnano per la prima volta nell'individualità, nell'individuo, nella coscienza, che prendono parte all'appartenenza della ruota delle nascite e delle morti, si devono incarnare e fanno parte di questo processo. Ma l'assoluto non ha necessità, visto che contiene il tutto, di incarnarsi. Anzi, al di là e al di fuori, è importante che una parte dell'assoluto non partecipi a questo processo di divenire, perché consolida la sostanza del tutto. E' un po' complicata la comprensione della totalità, però te la posso rappresentare con un esempio. Per farti comprendere attraverso il tuo corpo incarnato. Tu puoi camminare e quindi muovi le tue gambe contemporaneamente, però puoi pensare. E non cessi di pensare perché cammini, continui a pensare. Puoi muovere un braccio e non cessi di camminare mentre fai questo. Perché il tuo corpo non ha bisogno di fermare una cosa o l'altra. E contemporaneamente il tuo corpo si muove tutto insieme e, a seconda di dove porti l'attenzione, realizzi che stai camminando mentre stai facendo altre cose. Di alcune delle quali non ti rendi neanche conto come respirare, come pensare, come vedere, come reagire agli stimoli, come utilizzare le mani, anche in azioni differenti l'una dall'altra. Ogni parte è insieme, ma è a sé stante e, nel frattempo, cammina. Appartenere al ciclo reincarnativo è solo una parte del cosiddetto corpo dell'assoluto, perché tutto il corpo contiene il ciclo delle reincarnazioni. Domanda Quindi tu, come Michel, non hai mai attraversato la ruota delle nascite e delle morti? Michel Esatto Domanda Grazie Grazie Riccardo Allora Grazie a tutti